Musica Le marche resteranno in zona arancione anche la prossima settimana. Lo ha annunciato il presidente della regione Acquaroli oggi a Fano per partecipare ad un incontro sul turismo. A Pesaro il comune prosegue con i tamponi di massa agli studenti. Ricci striglia ancora la regione. Una scuola sicura è possibile, basta volerla. Annunciati lavori di asfaltatura lungo la superstrada tra Bellocchi e Calcinelli che consentiranno ad Anas di togliere il limite attuale dei 70 km orari. In tempi difficili per l'economia mondiale la Confartigianato rilancia la scuola per imprenditori con corsi di alta formazione dedicati anche ai giorni. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale sul canale 17. Come avete sentito, dunque le Marche resteranno in zona arancione anche tutta la prossima settimana. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, in visita oggi a Fano. Letizia Marchionni. Le Marche resistono e restano in zona arancione ancora per un'altra settimana. Ad annunciarlo è il presidente della regione, Francesco Acquaroli. La decisione arriva a seguito di un'analisi dell'andamento epidemiologico fatta dagli esperti. Nonostante si sia parlato di trend da zona gialla, si è comunque deciso di confermare l'arancione per la regione marchigiana, chiudendo così anche lo spiraglio di luce su eventuali riaperture anticipate, aperto nella conferenza stampa tenuta ieri dal premier Draghi. Il fatto che il decreto del governo escluda la zona gialla nel mese di aprile significa che siamo nella fascia migliore, ha affermato il presidente Acquaroli. Un appello alla massima attenzione perché oggi noi abbiamo i numeri praticamente esclusi i ricoveri ospedalieri, le terapie intensive per essere gialli, perché il nostro RT sta scendendo e sta scendendo anche l'incidenza dei numeri dei casi positivi su 100 mila. Però la verità è che oggi più di arancioni non possiamo essere per decreto. Dobbiamo quindi fare la massima attenzione, ha poi continuato Acquaroli, affinché la curva non vada a risalire proprio nel mese o nel periodo in cui il governo dovesse decidere di darci delle opportunità. Le strategie per far ripartire l'Italia dipendono molto dalla capacità singola nostra come istituzioni di dare le risposte adeguate, ma anche singole di capire il momento difficile che stiamo attraversando. Quindi bisogna passare per una fase che è quella della vaccinazione, del rispetto delle regole di mitigazione che ci devono portare al mese di maggio nella migliore maniera possibile e soprattutto nella capacità di saper rilanciare subito una stagione estiva che sarà determinante e speriamo anche l'ultima stagione, questa che stiamo vivendo, fortemente penalizzata. Nell'ultima giornata nelle Marche sono state registrate otto decessi. Tra le vittime ci sono anche tre persone residenti nella provincia pesarese. I positivi invece sono 452. La provincia più colpita è quella di Ancona, con 124 casi, seguita da Pesero Urbino con 96. In calo i ricoveri negli ospedali marchigiani, che arrivano a 880. Scende sia il numero di pazienti in terapia intensiva, che sono 134, che quello dei degenti in semi-intensiva, che sono invece 199. Ed Acquaroli, come abbiamo già detto oggi, era a Fano, con una parte della sua squadra di governo, per parlare di infrastrutture e di nuove strategie per il turismo. A seguito questo incontro, per noi, Simona Zunghetti. Dalle grandi incompiute all'erosione della costa, dalla ciclovia dell'Adriatico, alle strategie per rilanciare il turismo. Questi temi al centro del convegno organizzato dalla Confcommercio Marche Nord alla presenza del governatore Francesco Acquaroli, del suo vice Mirko Carloni e degli assessori Francesco Baldelli e Stefano Guzzi. Presenti all'ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano, diversi amministratori della provincia pesarese e rappresentanti di associazioni del territorio. Partiamo dal convegno infrastrutture e turismo al centro di questo incontro. Quali sono le priorità per la nostra regione? Le priorità sono quelle di dotare e di far uscire dall'isolamento che vive la nostra regione, la regione Marche. Le priorità sono quelle di rimettere al centro una potenzialità turistica che finora è stata vissuta solo relativamente di risulta rispetto ad altri settori che erano stati trainanti. La priorità è quella di vitalizzare un'entroterra e tutta una serie di patrimoni che noi abbiamo a livello di borghi, di territori, di tradizioni, enogastronomia, paesaggio, ambiente, che sono oggettivamente un patrimonio che potrebbero portare la nostra regione ad essere una regione all'avanguardia. Servono progetti precisi, ha proseguito Acquaroli, ed è necessario lavorare anche sulla destagionalizzazione. Il presidente è stato preceduto dagli interventi del sindaco di Fano Massimo Seri e di Amerigo Varotti. Il direttore della Confcommercio ha evidenziato la necessità di fare rete per una corretta attività di promozione e di accoglianza turistica. Siamo stati considerati la cenerentola delle Marche, ha detto Varotti. Abbiamo un grande patrimonio dal punto di vista ambientale, culturale ed enogastronomico. Il turismo è la leva fondamentale della nostra economia. bisogna crederci e investire risorse, come nel personale qualificato. È fondamentale, ha aggiunto, coinvolgere nella filiera anche il mondo della ristorazione. Il 18 di marzo la regione ha approvato, ha aggiunto la nuova azienda regionale per l'internazionalizzazione del turismo, l'ATIM. Credo che sia l'inizio di un percorso nuovo che noi avevamo sollecitato da anni. C'è la necessità veramente di una governance nuova del turismo e dell'internazionalizzazione, ruolo che la regione aveva perso negli ultimi anni. E c'è la necessità anche di correggere il comportamento a livello locale degli enti locali. Troppo spesso gli enti locali si muovono isolatamente, senza il concorso, la condivisione, la concertazione con le associazioni di categoria, con le prologo. Il messaggio che noi lanciamo e che peraltro è anche previsto nel piano triennale invece è di cercare di lavorare insieme per dei progetti di aria vasta come il nostro progetto dell'itinerario della bellezza. E a questo incontro era presente anche l'assessore al commercio, il assessore regionale Mirko Carloni, che ha detto al governo chiediamo di riaprire le attività in sicurezza prima della fine del mese. Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo faremo ancora nel prossimo incontro con il governo, di poter riaprire prima della fine del mese le attività che potranno farlo rispettando i protocolli di intesa, perché se il trend di decrescita della curva epidemiologica è confermata, ritengo che sia insostenibile la chiusura e ovviamente lo faremo a ragion veduta, nel senso senza mettere a repentaglio la salute e il buon andamento della curva. Questo però deve tenere la speranza, perché la chiusura indeterminata che oggi stanno vivendo molte attività economiche rischia di mortificare in modo definitivo un'attività del terziario che nell'ultimo anno ha subito un colpo mortifero. E quindi noi metteremo in campo, e lo stiamo raccontando già da oggi e lo faremo nelle prossime settimane, una serie di iniziative anticicliche che possano dare fiducia e mettere anche in campo delle risorse per far ripartire l'economia, soprattutto anche quella legata al commercio con una serie di iniziative, abbiamo fatto già diverse proposte di legge quindi stiamo intervenendo concretamente sul sistema legislativo regionale. Però certo è necessario che a fianco a questo ci sia anche qualche certezza purtroppo questo periodo è stato condizionato da troppe incertezze da troppe varianti che non potevano essere gestite in modo razionale e per quanto riguarda il commercio e gli affari il fatto di non avere certezze ma di avere continui rischi di cambiamento di regole questo è qualcosa che è davvero difficile da gestire. E adesso ci spostiamo invece a Pesaro dove continuano i tamponi nelle scuole per il terzo screening voluto dal comune. Il sindaco Matteo Ricci che ha fatto visita al Dante Alighieri ha ribadito la scuola in sicurezza è possibile, Stato e Regione si mettano all'opera. Angelica Panzieri. Oggi secondo giorno di screening qui alle scuole medie di Pesaro dopo i risultati di ieri oggi il sindaco Matteo Ricci ha commentato quelli di questa seconda giornata. Anche il secondo giorno di screening per gli studenti delle scuole medie pesaresi ha registrato una buona adesione. La macchina è stata messa in moto per la terza volta dal comune di Pesaro. Significativi numeri di questa seconda giornata rivolta agli studenti delle classi seconde e terze medie sono stati scovati 21 positivi su 566 tamponati. Ieri invece nella prima giornata dedicata alle prime medie di 9 istituti scolastici pesaresi solo 3 su 600 sono risultati positivi al tampone. Attorno alle 11 alla scuola Dante Alighieri è arrivato anche il sindaco Matteo Ricci che ha commentato così l'operazione da lui stesso avviata. È l'unico strumento possibile. Ieri ho incontrato il ministro Bianchi alla pubblica istruzione e ho ribadito che se vogliamo davvero avere una scuola sicura l'unico modo che abbiamo è quello di monitorare costantemente i ragazzi da qui alla fine dell'anno scolastico. Non c'è altra strada perché i ragazzi sono fuori dalla campagna di vaccinazione fino ai 16 anni non verranno vaccinati sopra i 16 anni presumibilmente verranno vaccinati durante l'estate alla fine dell'estate quando l'anno scolastico sarà finito e quindi se vogliamo davvero garantire il più possibile una scuola in presenza e una fine ordinata dell'anno scolastico l'unico modo è questo. C'è nella volontà del ministro quella di controllare i ragazzi in tutte le scuole, stanno studiando il meccanismo organizzativo e ci sono 150 milioni a bilancio perché nella DL sostegno che si sta discutendo in queste ore ci sono 150 milioni destinati al controllo dei ragazzi nelle scuole. Stanno uscendo diversi positivi, non in maniera esorbitante che vuol dire che la scuola tutto sommato è un luogo sicuro ma ieri 3, oggi già siamo a 10, a metà mattinata quindi stanno uscendo dei numeri che dimostrano che se quei ragazzi non fossero stati controllati con il tampone veloce inconsapevolmente nei prossimi giorni avrebbero infettato altri compagni di classe, familiari. Questo esperimento poteva essere una grande iniziativa regionale per tutti i marchigiani, invece come sapete non hanno voluto collaborare non ci hanno dato neanche i tamponi, continuano ad ostinarsi a non farla questa iniziativa, noi ci siamo organizzati per conto nostro siamo contenti perché siamo ormai al terzo screening e quindi comincia ad avere anche una rilevanza statistica credo che la regione Marche abbia perso un'opportunità. domani ultimo giorno di tamponi veloci per le scuole medie dalle 8.30 alle 10.30 alla Leopardi, dalle 8.30 alle 13 alla Don Gaudiano e dalle 11 alle 13 alla Olivieri poi la prossima settimana toccherà le scuole superiori. La Guardia Costiera questa mattina l'Alba ha sequestrato una rete da pesca illegale di 100 metri in località Pietra la Croce, in provincia di Ancona seppie, polpi e granchi ancora vivi che erano rimasti intrappolati sono stati liberati solo qualche giorno fa gli uomini della Capitaneria di Porto ne avevano sequestrato un'altra di 300 metri a Marina di Monte Marciano La Confartigenato Ancona Pesaro Urbino ha presentato la nuova edizione della Scuola per Imprenditori il corso di alta formazione che quest'anno diventa un vero strumento per far fronte alla crisi economica In un contesto economico in grave difficoltà con la perdita nelle Marche di più di 1000 attività produttive nel 2020 diventa ancora più importante dotarsi di nuovi strumenti per resistere alla crisi causata dalla pandemia e progettare soluzioni per ripartire Non conta l'età, contano le idee e soprattutto le competenze è questo lo spirito con cui Confartigenato Ancona Pesaro Urbino lancia la sedicesima edizione della ormai storica Scuola per Imprenditori in collaborazione con la Camera di Commercio e il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche un progetto di altissima formazione che anche quest'anno è capace di rinnovarsi con un nuovo corso dedicato ai giovani imprenditori Saranno due percorsi distinti Scuola per Imprenditori classica è destinata appunto a chi già fa impresa è una scuola per imprenditori un percorso dedicato proprio a chi invece vuole avventurarsi nel mondo dell'imprenditoria vuole diventare imprenditore o vuole anche fare il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia ecco, questi sono due percorsi divisi che serviranno appunto per dare gli strumenti per capire quello a cui si va incontro e quelle che sono le difficoltà ma anche le grandi opportunità di questo nostro paese del fare impresa nel nostro paese Anche quest'anno seminari e lezioni saranno coordinati dal professor Gianluca Gregori magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche L'obiettivo infatti è quello di creare un legame tra le conoscenze e i nuovi strumenti per affrontare i mercati Evidenziare quelli che sono i nuovi strumenti per affrontare i mercati Penso solo al digitale quindi non solo gli aspetti economico-finanziari a cui faceva riferimento ma tutto il tema del digitale che può essere utilizzato non soltanto in un'attività commerciale ma anche in quella della riorganizzazione interna delle procedure quindi un utilizzo esteso È un'opportunità che offriamo gratuitamente ha sottolineato invece il segretario di Confartigianato Pierpaoli in un momento difficile come questo ha detto è fondamentale alimentare il circuito delle competenze grazie alle quali le imprese possono anche rinnovarsi puntiamo forte sulle aziende che combattono ogni giorno e hanno bisogno di nuove prospettive Noi lavoriamo affinché ci sia un anno bianco della tassazione affinché ci sia una moratoria sul credito però le imprese devono iniziare a affrontare anche magari la gestione del debito bancario contratto in questi anni per resistere a questa situazione economica e quindi è per questo indispensabile oggi far partecipare i nostri imprenditori per aiutarli a resistere a un contesto competitivo così fortemente mutato E sulla scuola per imprenditori ci sarà uno speciale che andrà in onda dopo il nostro telegiornale Intanto adesso ci spostiamo invece sulla strada sulla superstrada Fano Grosseto perché a breve inizieranno i lavori di sfaltatura lungo la superstrada tra Bellocchi e Calcinelli un intervento che consentirà di togliere il limite dei 70 km orari Sui social aveva destato rabbia e indignazione il nuovo limite di velocità lungo la superstrada E78 nel tratto tra Bellocchi e Calcinelli 70 i km orari imposti a causa delle condizioni del fondo stradale ammalorato Viste le lamentele da parte di molti automobilisti che usufruiscono di questa importante strada il consigliere regionale dei civici Marche Giacomo Rossi si è fatto avanti scrivendo una lettera di spiegazioni all'ANAS della Regione Marche Nel giro di alcuni giorni poi ANAS ha risposto elencando i vari motivi della diminuzione della velocità e oggi la conferma dell'avvio dei lavori di sistemazione del manto stradale Ho richiesto appunto un pronto intervento affinché questa situazione fosse appunto sanata e ho contattato ANAS in questi giorni e mi ha confermato oltre al finanziamento per mettere a posto questo tratto di superstrada anche appunto l'inizio dei lavori che saranno prossimi quindi compatibilmente con le risorse che sono state messe la strada praticamente sarà messa a posto e di conseguenza il limite dei 70 dovrebbe essere riportato ai 110 perché è il limite che si addice a una strada di grande comunicazione e di forte percorrenza come in questi tratti ecco la E78 è l'infrastruttura più grande della nostra provincia serve di fatto l'intera provincia ed è un'arteria che va sempre attenzionata Per quanto riguarda le tempistiche invece quando inizieranno i lavori? Allora ANAS mi ha comunicato che i lavori inizieranno a giorni quindi noi attenzioneremo questi lavori e seguiremo la vicenda fino alla fine degli stessi Il servizio era di Filippo Pucci adesso parliamo invece ancora di cronaca un incidente che è avvenuto intorno a mezzogiorno coinvolti nell'impatto un ciclista fanese di 75 anni ed una donna di 33 a bordo di una Opel Zafira insieme a sua figlia per causa ancora in corso di accertamento poco dopo la rotatoria di Piazzale Rosselli due veicoli che procedevano nella stessa direzione si sono scontrati ed il ciclista è caduto a terra tra i 75 anni è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Fano sul posto, la polizia locale ed una pattuglia del commissariato e un secondo incidente invece si è verificato a Bellocchi di Fano intorno alle 9 di questa mattina quando lungo la strada comunale di Rosciano all'intersezione con la 27esima strada una microcar condotta da una 49enne una volta arrivata all'altezza dell'incrocio si è fermata per svoltare verso destra quando è stata tamponata da una Opel Corsa con a bordo una 28enne nessuna delle due donne coinvolte nell'incidente ha riportato lesione e adesso invece apriamo l'album di famiglia di Fano TV siamo in chiusura del nostro telegiornale per fare gli auguri a Ireneo Tomasetti e a Alessandrina Papa di Mondolfo che ieri hanno festeggiato le nozze di Diamante 60 anni di matrimonio auguri dai figli dai nipoti e dai pronipoti vi ricordo invece che lunedì sera primo cittadino avrà come ospite il sindaco di terre rovenesche Antonio Sebastianelli mentre tra poco come già detto uno speciale sulla conferenza stampa della Confartigianato riguarda la scuola per imprenditori e poi esplorare i confini con il circolo bianchini si parlerà di fake news le notizie tornano invece domani mattina alle 7 in diretta per il commento alla stampa del giorno arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.